Buongiorno e ben ritrovati ad una nuova edizione del nostro TG Abruzzo in apertura alla politica. Il governatore Marco Marsilio, ospite ieri di Giorgia Meloni a Palazzo Chigi per un confronto sui temi legati all'Abruzzo. A rendere nota la visita è stata la Premier con una foto pubblicata sui suoi canali social che la ritrae in compagnia del presidente abruzzese. Un vero piacere aver ricevuto oggi a Palazzo Chigi il presidente della regione Abruzzo Marco Marsilio per un confronto sui principali temi di interesse regionale, ha scritto Meloni condividendo lo scatto sulle stories di Facebook. Il consigliere regionale del PD Antonio Blasioli ha annunciato un esposto in procura a Pescara per avere chiarimenti sulla vicenda delle naia di l'impianto natatorio riaperto dopo vari controlli. Non ultimo, la manchiata scia. Ce ne parla Rossella Luciani. Dopo l'ennesima chiusura nei giorni scorsi per la carenza di documentazione, le naia di hanno finalmente riaperto, ma non senza polemiche. Il consigliere regionale del PD Antonio Blasioli ha annunciato un esposto alla procura di Pescara per avere chiarimenti dalla regione Abruzzo su quattro punti di rimenti della questione. A tre note molto particolareggiate che abbiamo presentato e inviato a 11 destinatari diversi della regione Abruzzo, nessuno si è mai degnato di rispondere. Sono passati ben più dei 30 giorni previsti per legge e nessuno risponde ai dubbi che abbiamo sollevato, dubbi che riguardano alcuni aspetti specifici. Il primo, la salvaguardia dei dipendenti. C'è una clausola di salvaguardia del capitolato accettata dalla società che gestisce le naia di. Le naia di sono riaperte, come leggete su tutti i giornali, ma molti di questi dipendenti non sono stati richiamati. Il secondo aspetto è quello della garanzia fideiustoria provvisoria. È valida o non è valida quella prestata da una società di motosoccorso? Noi nutriamo dei dubbi, ma che ci vuole risponderci a dirci se vale quella o non vale? Era una clausola prevista appena di esclusione. Il terzo aspetto è quello che riguarda la garanzia fideiustoria definitiva. L'articolo 25 del capitolato dice che doveva essere presentata entro 15 giorni. È stata protocollata in regione o non c'è ancora neanche la garanzia fideiustoria? E poi il quarto è quello sulla qualità di questo contratto. Su quest'ultimo aspetto il consigliere Dem entra nello specifico. Areacom aveva fatto un affidamento per quattro mesi con utenze interamente pagate dalla cittadinanza abruzzese e con zero canone come corrispettivo. Poi invece viene firmato un verbale il 13 ottobre che è il verbale di affidamento ed urgenza anticipatorio della convenzione di vent'anni. Convenzione che ancora c'è. È di quello che fine si fa? Qual è l'atto di autotutela che revoca quell'affidamento dei quattro mesi? Chi paga il periodo che è andato dal primo di settembre al 13 di ottobre? Ecco, su tutte queste domande vogliamo capire che cosa sta facendo la regione abruzzo. E vogliamo vederci chiaro anche sulle sospensioni di questi giorni delle piscine. È possibile aprire le piscine nel terzo impianto più importante d'Italia senza che ci sia neanche la scia? Insomma, detta di Blasioli, forse la fretta di riaprire le piscine con tanto di tuffo del governatore Marzilio all'inaugurazione è stata cattiva consigliera. E ora ci spostiamo a Città Sant'Angelo dove i vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte per spegnere un vasto incendio all'interno di una ditta che si occupa di stoccaggio e smaltimento di rifiuti. Non è la prima volta e non si esclude il dolo. Sentiamo. C'è l'ombra del dolo nel nuovo incendio scoppiato la notte scorsa all'interno della ditta Terra Verde di Città Sant'Angelo che si occupa di stoccaggio e smaltimento di rifiuti. Un ruogo aveva già interessato la struttura nella notte di Halloween tra il 30 e il 31 ottobre scorsi. L'ulteriore allarme è scattato nella tarda serata di questo mercoledì. Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco del comando provinciale di Pescara intervenuti con quattro squadre e anche il nucleo NBCR per i rilievi ambientali. Le fiamme hanno riguardato un cumulo di rifiuti solidi e sono state domate solo attorno alle 7 del mattino. La struttura nel 2011 fu interessata da un altro gravissimo incendio che andò avanti per giorni con conseguenze e problemi dal punto di vista ambientale. Attualmente il sindaco di Città Sant'Angelo attende i risultati delle analisi dell'ARPAM prima di emettere eventuali ordinanze. Lo stesso Matteo Peranzetti, dopo il ruogo dei giorni scorsi, ha scritto alla Regione Abruzzo per ribadire che la ditta ha ottenuto la proroga dell'autorizzazione nonostante il parere contrario del Comune. Alla luce di questi due incendi avvenuti a distanza di pochi giorni chiederemo agli antipreposti di verificare la sicurezza dell'azienda, dichiarato il primo cittadino. La ditta NRGSRL è da tempo al centro del dibattito politico. L'amministrazione comunale ha più volte espresso la propria contrarietà all'impianto di piano di sacco dove presto potrebbe entrare in funzione anche l'inceneritore. Superlavoro dei vigili del fuoco pescaresi che nel pomeriggio di ieri erano già intervenuti per un incendio divampato in un appartamento di Via Tosto nella zona di Pescaracolli, le fiamme sono divampate improvvisamente in una camera da letto da alcune apparecchiature elettroniche. Fortunatamente il rapido intervento dei pompieri ha fatto sì che il rogo restasse circoscritto alla stanza evitando che le fiamme si propagassero. In altri locali nessuna persona è rimasta coinvolta, solo danni da fumo e calore. Siamo alla cronaca, frattura il naso al nonno di 72 anni durante un litigio familiare e getta il cane dalla finestra uccidendolo. 25enne Avezzanese finisce a processo, per lui il GUP di Roma ha disposto una perizia psichiatrica. Sarà sottoposto a perizia psichiatrica il 25enne di Avezzano che nel dicembre 2020 al culmine di una lite in famiglia picchiò brutalmente il nonno e in preda ad un raptus gettò il cane della madre dalla finestra di casa provocandone la morte. Lo ha deciso il GUP del Tribunale di Roma nel corso dell'udienza preliminare del processo che vede imputato il giovane Avezzanese per lesioni personali aggravate e uccisione di animali. La violenza si era consumata nell'appartamento romano di proprietà della madre del 25enne. Tutto sarebbe nato da un violento diverbio tra i due, degenerato, quando il nonno, di 72 anni, aveva provato ad intromettersi per placare gli animi, rimediando però una serie di pugni in faccia. Il nipote lo avrebbe colpito con una violenza tale da fratturargli il setto nasale. Poi, non pago, aveva sollevato il bull terrier della madre scaraventandolo dalla finestra. Un volo dal terzo piano costato la vita al povero cane, deceduto dopo una breve agonia a causa dei traumi riportati. Per il nonno, invece, si era reso necessario il trasporto in ospedale e il conseguente intervento chirurgico disposto dai medici per rimediare alle fratture multiple al naso. Denunciato, il 25enne era stato rinviato a giudizio e mercoledì mattina è comperso dinanzi al GUP di Roma. La vicenda è stata ripercorsa nel corso dell'udienza preliminare e il giudice, data la crudeltà con la quale il giovane avrebbe agito, ha disposto nei suoi confronti una perizia psichiatrica che sarà eseguita nelle prossime settimane, in vista della prossima udienza, fissata a dicembre. Il 25enne rischia una doppia condanna per i reati di lesioni aggravate e uccisione di animali, puniti ciascuno con la reclusione fino a due anni. Abusi sessuali sulle figlie minori della convivente, queste le accuse che hanno portato alla condanna di un 53enne chietino a sei anni e quattro mesi di reclusione. I fatti si sarebbero verificati tra il 2020 e il 2022 quando l'uomo e l'ex compagna vivevano sotto lo stesso tetto con le figlie di lei. Il processo, con rito abbreviato, si è svolto dinanzi al gruppo del Tribunale di Chieti Andrea Di Bernardino che ha condannato il 53enne a risarcire le vittime, parti civili nel processo e a versare loro una provvisionale di 20 mila euro ciascuna. Il condominio anticipa 80 mila euro per lavori da effettuare con il super bonus, ma la ditta subappaltatrice non viene pagata e porta via dal cantiere ruspe e attrezzi da lavoro. Ora la Procura di Sulmona ha aperto un'inchiesta. Sentiamo Stefania Serino. Degli 80 mila euro versati dai condomini come anticipo del super bonus è rimasta solo la recensione del cantiere. Indaga la Procura della Repubblica di Sulmona sulla truffa contrattuale di Via Vezzano. Il condominio, per il tramite dell'avvocato Mauro Sciullo, ha querelato l'appaltatore generale, quindi l'impresa, chiamata a svolgere i lavori presso gli uffici della Guardia di Finanza. I lavori di demolizione e ricostruzione della palazzina, avviati lo scorso maggio, sono stati improvvisamente interrotti. La ditta subappaltatrice ha svuotato il cantiere, portando via ruspe, attrezzi ed escavatori, lasciando in loco solo la recensione. Il tutto perché l'appaltatore generale non ha corrisposto le spettanze economiche all'impresa. Eppure i condomini della palazzina avevano versato 10 mila euro ciascuno, come anticipo per la demolizione e ricostruzione, per un totale di 80 mila euro che si sono volatilizzati. Per questo il condominio ha deciso di procedere di querelare l'appaltatore generale che, secondo quanto ipotizzato in querela, ha incassato le somme versate, per poi, con artificio raggiro e in assenza di una copertura economica da parte della banca, sparire nel nulla. Per noi si tratta di una vera e propria truffa. La legge ha permesso a società improvvisate di andare a gestire milioni di euro che poi si sono rilevate non capaci di effettuare lavorazioni, commenta l'avvocato Sciullo. Per avviare i lavori in verità, era stata necessaria un'incisiva azione giudiziaria per lo sfratto di un'inquilina, portata via dalla forza pubblica che non voleva lasciare la palazzina, nonostante avesse in un primo momento deliberato a favore del superbonus. Insomma, oltre il danno, anche la beffa. Caso di dengue, nell'Aquilano la regione Abruzzo ha attivato tutti i protocolli di sicurezza. Vediamo il servizio del nostro Matteo Porfiri. La regione Abruzzo, in collaborazione con l'ASL di Avezzano, sul Mona L'Aquila e l'Istituto Zoo Profilattico di Teramo, ha attivato tutti i protocolli di sicurezza sanitaria per la gestione dell'ultimo caso di febbre dengue segnalato nel territorio delle comune di Cività Dantino dall'Istituto Spallanzani di Roma. Lo comunica il Dipartimento Sanità della regione Abruzzo. Il caso riguarda una donna residente nel centro dell'Aquilano, ma domiciliata stabilmente a Roma in un quartiere dove è già stato rilevato un focolaio attivo di dengue. Dalla segnalazione dello Spallanzani, l'ASL si è subito attivata con l'amministrazione comunale del paese dove la signora avrebbe soggiornato per alcuni giorni tra il 20 e il 23 di ottobre, raccomandando l'attivazione di procedure di disinfestazione così come previsto dal Piano Nazionale Arbovirosi. Procedure che hanno portato alla chiusura di alcune strutture per un periodo di tre giorni, necessari per consentire gli interventi di bonifica in totale sicurezza per la salute dei cittadini, trattandosi di sostanze chimiche potenzialmente nocive. Si tratta in ogni caso di misure messe in atto a scopo precauzionale in attesa del completamento dell'indagine epidemiologica e degli ulteriori accertamenti affidati all'Istituto Superiore di Sanità. Va ricordato in ogni caso che il virus della dengue non è trasmissibile da uomo a uomo, ma solo attraverso le punture di particolari specie di zanzare la cui presenza nella zona di Civita Dantino è in corso di accertamento da parte dell'IZS. In conclusione la calcio eccellenza, il Teramo reduce dal primo K.O. stagionale vuole ripartire subito in casa a Bianco-Rossa parla il capitano Alfonso Pepe. Sentiamo Giussi Cingoli. Dopo il K.O. con l'arenato Curi il città di Teramo è pronto a riprendere la corsa in vetta alla classifica. Domenica turno favorevole sulla carta ai Bianco-Rossi che affronteranno in casa il Monte Silvano alle 14.30, terz'ultimo in classifica con la peggiore difesa insieme al Ponte Vomano con 24 gol finora subiti mentre Giulianova con il nuovo tecnico Alessandro Lucarelli giocherà in trasferta contro la Delfino Curi una gara complicata da non fallire per sperare di avvicinare la capolista. Anche se domenica è arrivata la prima sconfitta stagionale per il Diavolo la difesa dei Bianco-Rossi rimane sempre una delle migliori del campionato con 9 gol subiti solo due reti in più di Giulianova e Angolana e a tal proposito il capitano Alfonso Pepe così ha analizzato l'attuale momento dei Bianco-Rossi. Alfonso Pepe, aver perso l'imbattibilità e tre punti di vantaggio sul Giulianova cosa significa? Significa che purtroppo domenica è andata male non ce l'aspettavamo anche per come eravamo partiti pure andare in vantaggio dopo due minuti però purtroppo il calcio è anche questo può succedere, domenica no e arrivata adesso dobbiamo prendere come esempio questa partita per ripartire al meglio. Quindi gara facile sulla carta? Sulla carta in calcio c'è poco le partite vanno sempre giocate quindi dobbiamo essere concentrati noi stessi e dare il massimo. In mattinata è stata attivata la prevendita dei biglietti per la gara con il Montesilvano sul portale CiaoTickets nella sede sociale di Via Delfico e nei consueti punti vendita. Ed è tutto il nostro TG Abruzzo torna con la prossima edizione e vi lascio la programmazione di Vera TV Arrivederci